I corpi incorrotti sono un vero mistero per il mondo. Quello che è ancora più misterioso è il fatto che questa incorruttibilità coinvolga soprattutto i corpi di santi o religiosi. Spesso questi corpi emanano un profumo inteso, cosa particolarmente strana per dei corpi morti. Altri presentano stigmate come nel caso di Santa Caterina Fieschi Adorno, il cui corpo incorrotto si trova nella chiesa della Santa Annunziata di Portoria. Santa Chiara d'Assisi fu invece ritrovata incorrotta nel 1850 ed esposta in una teca di vetro per la devozione dei pellegrini che si recano nella chiesa omonima d'Assisi. Incredibile il caso di Santa Caterina de Vidri, conservato nel santuario del monastero del Corpus Domini, a Bologna, di cui fu la fondatrice ebadessa. Nata l'8 settembre 1413, Caterina venne educata alla corte estense, che all'epoca era al massimo del suo splendore. In questo ambiente fastoso e mundano, Caterina matura una scelta di vita da dedicare a Cristo. Entrò giovanissima nel monastero del Corpus Domini di Ferrara, dove professò la regola delle sorelle povere di Santa Chiara e vi rimase fino al 22 luglio 1456, quando viene chiamata a Bologna, per fondare il monastero anch'esso detto del Corpus Domini. Morì il 9 marzo 1463 e venne sepolta nella semplice terra. Subito, si verificarono miracoli e guarigioni presso la sua tomba e dopo sole 18 giorni venne esumata. Il suo corpo profumava suavemente ed era ancora fresco e morbido. Trasudava un liquido non ben specificato, odorante di fiori e muschio, che venne raccolto in apposite ampolle. Nel 1475 si volle esporre il corpo della badessa alla venerazione dei fedeli, in posizione seduta e pare che fu allora al corpo si irrigidi ma, su comando della superiore, si mise nella posizione che si può ancora oggi verificare. Seduta su una cattedra, con gli occhi aperti, vestita con la tonaca. Molti viaggiatori che visitarono questo sconcertante corpo, ne narrarono le vicende che accompagnarono il suo ritrovamento, ed escrivono come le monache clarisse dovessero tagliarle regolarmente le unghie e tagliarle i capelli perché continuavano a crescerle. Ancora oggi, il corpo della santa trassuda un liquido limpido che imbeva le bestie e le suore devono cambiarla periodicamente e prendersi cura di lei. San Giacomo fu sepolto una quindicina di giorni dopo la sua morte a Santa Maria la Nova, scrisse Fravenanzio che aveva ancora un bel colorito rosso nel 1700 durante il processo per la santificazione si fece anche una ricognizione sul suo corpo ritenuto incorrotto e flessibile. 39 testimoni depositarono le loro testimonianze a favore specialmente alcuni che avevano toccato il corpo quando gli fu cambiato abito testimoniarono che sia le mani, che le gambe e il capo erano flessibili. Dopo queste testimonianze ci fu la ricognizione di alcuni periti che confermarono la conservazione miracolosa del corpo escludendo che fosse stato imbalsamato in quanto non c'era alcun segno di questo procedimento. Nel 1888 si verificarono due episodi contrastanti. Il convento era stato abbandonato dai frati in seguito alle leggi d'espulsione per i religiosi in tutta Italia. Il corpo di San Giacomo in quell'anno venne trovato pieno di umidità a causa dell'abbandono in cui era rimasto per molti anni, ma pochi giorni dopo mentre si chiamò un chirurgo per tagliare un pezzo del tallone e farne una reliquia, il dottore pieno di meraviglia segando il tallone vide che le membra erano ancora fresche e scaturì del midollo intriso di sangue. Il corpo di Bernadette è un vero miracolo ha subito tre autopsie tutte con cordi gli organi sono tutti perfettamente conservati compreso il fegato, i tessuti sono tutti morbidi al tatto. Questo è il link del mio video su Bernadette. Noto è il ritrovamento della lingua e delle corde vocali ritrovate intatte di Sant'Antonio da Padova, che sono conservate nel tesoro della Basilica in apposite e preziose urne. Appunto quando il corpo venne esumato lo si trovò completamente polverizzato, ma sul fondo della bara venne ritrovata la lingua perfettamente intatta e ancora morbida e rosa Sant'Antonio era un grande oratore. Santa Chiara d'Assisi fu invece ritrovata incorrotta nel 1850 ed esposta in una tecca di vetro per la devozione dei pellegrini che si recano nella chiesa omonima d'Assisi. Uno dei primi casi storicamente noti riguarda il corpo di Santa Cecilia, che venne marciato attirizzata nel 177 d.C. La tecca in cui fu rinchiuso il cadavere venne riaperta nel 1599 e il corpo apparve intatto e profumava di fiori. Un altro caso di perfetta conservazione è quello di Santa Caterina da Genova, il cui corpo venne ritrovato incorrotto nonostante fosse conservato all'interno di una cassa putrida e ammuffita. Ma la lista non finisce qui. San Francesco di Paola, San Francesco Saverio, San Pietro d'Alcantara, Santa Teresa d'Adila, San Carlo Bormeo, San Filippo Neri, San Luigi Gonzaga, Santa Maria Maddalena de Pazzi, Santa Rosa da Lima, San Vincenzo de Paoli, San Giovanni Battista della Salle, Santa Alfano Maria Liguori. La lista potrebbe continuare ma ci fermiamo qui. Riassumiamo il tutto, corpi di persone, cattolici, considerati santi da tutti per le loro vite irreprensibili, corpi che non emettono odori anzi profumano, corpi che non si decompongono in nessuna condizione, corpi che sono le come segno per farci riflettere, per farci comprendere che dopo questa vita c'è la vera vita, che la morte è solo un passaggio. Il loro messaggio è chiaro, non soffermarti troppo a pensare alle cose di questa vita ma avvolgi il vostro sguardo all'altra, a quella eterna.